Marte di grasso di paura, sfiorata la tragedia azzollina a causa del crollo di una parete da una vecchia abitazione. Lecce, città a rischio, quadro confortante sulla criminalità nel Salento, anche se il territorio resta ancora favorevole all'estensione della malavita. Omicidio manco secondo atto, prosegue in corte d'assise al processo sull'omicidio di Acquarica del Capo. Lirica, D'Alema ha detto sì, il leader del PDS assisterà alla prima dei puritani. Richard Oliver, figlio di un mito, ha lezioni di teatro con il figlio di Lorenz Oliver. Buon pomeriggio dal Tg8, come avete appena ascoltato, è sfiorata la tragedia azzollino, martedì scorso in pieni festeggiamenti per il carnevale. Un masso infatti è caduto dal terrazzo di una vecchia abitazione, insita in pieno centro del paese, proprio al passaggio del corteo di maschere. Poteva essere un tragico carnevale quello di martedì scorso azzollino, fortunatamente si è concluso con un lieto fine senza alcun danno. Un colorato corteo, popolato da allegre maschere, stava sfilando lungo le vie del paese il giorno di Marte Tigrasso, erano circa le 16 o poco più. Tutto era stato preparato, i carri, il tragitto studiato, forse però non sufficientemente bene. Infatti il corteo stava per entrare in via Clementi, alle spalle della chiesa di San Pietro e Paolo, quando ci si è resi conto che le dimensioni dei carri carnevaleschi erano troppo grandi rispetto alla via, che così risultava essere stretta. Ha deviato la sfilata lungo il più largo corso Vittorio Emanuele, ed è qui che si è sfiorata la tragedia. Il primo carro passa infatti lungo la via, urta un filo, rimasto attaccato alle pareti di alcune case dal Natale passato, utilizzato per le luminarie e lasciato lì dalla ditta, proprio per non dover ogni anno montare e smontare i fili per gli addobbi di luce e colori. Il passaggio del carro però è stato fatale, ha urtato infatti il filo, che cedendo ha fatto crollare un masso staccatosi dal terrazzo di una vecchia casa disabitata, corrispondente al civico 16. Un peso di circa 50 chili ha danneggiato il marciapiede che fiancheggia la via. Fortunatamente in quel momento nessuno passava sul marciapiede, solo per una pura casualità, considerato che era in corso una grande manifestazione e che la via è stita in pieno centro di Zollino. Il tragitto, come si diceva, era stato studiato, le vie dove sarebbe dovuto passare il corteo erano state tutte controllate, eccetto via Vittoria Emanuele e le altre rimaste fuori dal tragitto. Solo non si è tenuto conto di quelle che erano le dimensioni del corteo e soprattutto di quelle dei carri carnevaleschi.